Eccoci qua, Maurizio Poli, buongiorno. Molti mi chiedono, ma si può guadagnare, Maurizio, con i tassi negativi? Perché le istituzioni, le banche, comprano obbligazioni con tassi negativi? Per esempio il Bund, che era quotato 0,30, è sceso a 0,60. Come mai comprano obbligazioni con tassi negativi? Ma per la sensibilità che c'è nei tassi. Un tasso di interesse che sale, il prezzo dell'obbligazione scende. Il tasso di interesse scende, il prezzo dell'obbligazione sale. Quindi guadagnano sul prezzo. Si può anche fare operazioni sul breve, guadagnando, scommettendo, tra virgolette, aperte e chiuse parentesi, sul discorso del tasso che sale e scende, guadagnando anche un 5%. Quindi anche con i tassi negativi, professionisti, esperti e gestori, riescono a, nella programmazione, nella pianificazione finanziaria del portafoglio, a inserire anche queste opportunità. Quindi sì, ci si può anche guadagnare con i tassi negativi. Alla prossima!